Matri, lecce le talla, punta a cambiare gioco, sta bene per Krasic, piccino Litzsteiner, mette pala giù Krasic, punta l'avversario, le pinze di Krasic, va venire mal di testa all'avversario, poi cross, morbido sul secondo palo, Matri! 1-0 per la Juve, al 9 minuto, Alessandro funziona già, gli scedi conto. 1-0 per la Juve, al 9 minuto, Alessandro funziona già, gli scedi conto.